Questo portale è di nuovo stato realizzato con le pietre antiche dell'abitazione, poi nel corridoio ritroviamo il nostro pavimento in cresce, 120x120, questo effetto in tono, con un vecchiato molto elegante. E qui entriamo nel Valle Zona Giorno che io amo particolarmente, anche qui abbiamo fatto una bellissima opera di progettazione abbinando il fondo alla rubinetteria in acciaio inox della Cea, meravigliosa. La vasca è stata completamente rivestita con le stesse piastrelline che sono delle piastrelle artigianali, vedete che infatti hanno questa superficie irregolare e questa non è un difetto, anzi è proprio la loro bellezza e hanno anche delle texture diverse. Anche qui il cliente mi dice di essersi completamente innamorato di questo rivestimento che effettivamente nel suo colore white opaco è di un'eleganza, secondo me senza tempo, meravigliosa. La rubinetteria è a muro e abbiamo utilizzato una mensola in legno massello per appoggiare un cartino in ceramica.